O'l'radicione, Adelina Cantalupi Gasparoli, Santa Domenica Og'era un scior de' bona famiglia che o voleva maridas e ondì og'adice ai so' genitori che o sposava la tal' giovina. I so' gli era contrari e diceva, guarda cos' sto fa, che la giovina l'è nient per ti, perché tutta la gente l'attegna per un'ostria. Lì ho ammigà credu e ho la sposata lì stessa. Ondì ho gavignet in menta a lì da nafa legna in tolbosch e lì le nacce e ho a toltre l'assigù, le rivò in tolbosch e ho avvishto un radicione e ho semetù drè a taglial. Poi le vignet a cà con un toc de legna sulla spalla. Quando le rivò a cà, appena dentro dalla porta, ho assentito in la stanza quai d'un ha lamentass. E o ga domandò alla so' femmine, chi è co' gede ma l'ho? Le la ga rispondu, le la mi mam che la ga mala o no gamba. Lì le nacce a trovala, la so' seggur in la stanza. Quando le rivò dentro, la seggur la ga dici. Le ti, canaia don Birbon, che te taiò la mi gamba. E dopo lì o ha dici. Ah, o sè de chi dolciando il sespet. Infatti, invece, i digeva che tutti i striong e i striang, i nageva lassù a far il bordel. Lì, dopo dech'el dì, le vignet disgustò. O ha toltsù o l'so sac, e l'è schcapò. E più, via la visht.